Cari amici, sono delosissimo della Rai in quanto mi hanno rifiutato anche a furore dopo avermi rifiutato The Voice precedentemente, una cosa veramente che non si può nel terzo millennio rifiutare un ragazzo solo perché in carrozzina, qualcosa di veramente incredibile, di non concepibile in questi anni. Già la seconda volta e con la stessa produzione e poi per di più anche in diretta quando ero su Facebook, all'ho chiuso la diretta quando ho chiesto di andare a furore come pubblico, non si può fare queste cose. Beh, comunque ne parlerò fa un po' in diretta con voi per sapere cosa ne pensate, un po' perché ci tengo. Però mi dispiace per Alessandro Rego che è un bravissimo presentatore, una bravissima persona, ma evidentemente c'è una produzione non degna del programma perché vent'anni fa non sarebbe mai accaduta una cosa del genere ai tempi che c'erano Iapino e Lacarrà come autori. Con questo concludo questo video salutando Alessandro Rego e augurandomi che qualcuno capisca il mio provo perché non ne possiamo più, non è più possibile nel terzo millennio ragazzi. Allora, a quanto tempo, quando sarà il tempo? Attenzione, è un aspetto bellissimo. E va bene, vediamo il corpo prestissabile che ancora non fosse giusto, di Serena Garitta. Grazie.